È iniziata la seconda giornata cremonese dei ragazzi della FIDAL a Lombardia che partecipano al progetto L'Atletica per l'Atleta, ideata dal vicepresidente Gaetano Erba con la volontà di supportare la crescita sia dal lato sportivo sia sul piano umano e caratteriale di 15 giovani promesse dell'Atletica Lombarda, delle categorie cadetti, allievi e juniores maschili e femminili. Un progetto che dà un senso allo sport, come ha voluto ricordare il presidente regionale del CONIO Oreste Perri durante il saluto della città. I ragazzi sono stati ricevuti in sala quadra, in palazzo comunale, dal sindaco e dalle autorità sportive cittadine. Il progetto racchiude un percorso molto particolare che vuol dire accompagnare questi ragazzi in una formazione culturale e quant'altro insieme al loro percorso sportivo. È chiaro che l'aspetto tecnico è sì importante ma a noi interessa che questi ragazzi facciano veramente esperienza in città d'arte come Cremona e comprendono che cosa vuol dire essere atleti di un certo valore. Come progetto mi aspetto che sia una cosa dove impareremo anche molte cose, come per esempio ho letto il programma che andremo a vedere anche la mostra sui violini che mi sembra anche una cosa molto interessante da poter visitare. Infatti Cremona mi sembra anche una cittadina molto bella e siccome l'abbiamo anche visitata ieri sera mi aspetto molte cose e spero che vada bene. Siamo tutti molto entusiasti di essere qui, ci sembra una bellissima esperienza e speriamo vada bene.